Il progetto più rosa è un progetto che è nato nel 2008-2009 quando vieda al governo, allora il sindaco, è un progetto che come diceva il mondo di Alcocanluccio, bravo tecnico anche con l'Unione Europea anche con la posizione di fondi comunitari destinati e vincolati delle finanze parti dell'azienda. Vedete, oggi non è che si sa, si perdono e si forza il campo o non si perdono. La questione è veramente tipistica perché si come vedi che ho l'onore di essere rappresentato il governatore della regione Campania che è un progetto che sembra un calzotto ha trattato e ha capito i meccanismi tecnici che non saranno più. Per quel posto non sapete che gli offre i nostri non devono concludersi in maniera effettiva e proprio di l'azienda Campania e non sapete che sta cacchierata in quelle vicine perché oggi è stato più avanti di noi. Hanno già fatto la riappata, anche le imprese già hanno fatto l'azienda Campania e hanno più difficoltà anche loro a concludere da lui che è il suo progetto. Sicuriamoci tutti che ancora dobbiamo iniziare a aprire l'attrazione unica appaltante e procedere a teca. Vedete, la maggioranza si può fare il genere di modi come anche un tradizionale. Ma è un prego che, di fronte a temi del genere, temi che vanno, sono complicati, vedete, hanno le sussibili le reti di questa città e questi cittadini non è più un passo. Oggi mi hanno fatto una ricordienza personale, una responsabilità delle persone. Allora, state dai vostri cittadini, dai vostri cittadini, state gli amici che percorso al vostro consaglio si fermano nel 5 giorni dietro che, come vengono 6 i 3 di questa città, cambiano e cambiano la vita di oggi. Vedi, caro figlio, i conti che ho avuto con le finanze al Centro Soli. Ma tu immagina che con i conti che ho spesso per i governanti al Centro Soli, i conti che erano per il Centro Soli. Occhino, la Magdalena non è un problema. Occhino lo stesso risultato di qualificare per il Centro Soli. quello che è chiaro, non è un problema. E' come me di sconsatore a tanti altri consiglieri. Oggi il segrenario risponde che si vuole il prodotto. E' giusto a me, si può anche il prodotto. Ma non risponde che si dovrebbero perdere per una questione del viso. E' un fatto di me che non lo fa, non si può perdere neanche questa cosa. Ma chi come me, che è stato nel senso politico della regione campale, che non lo fa bene. Allora io ti dico, a maggioranza si fai in qualunque modo, in posizione, anche. Oggi ho fatto di guardare le gioche con il ciclianismo quando si è uscita a noi. Oggi si tiene il senso di responsabilità di un voto, di un progetto che è nato da un'amministrazione pesata, di uno che è nato dal primo momento. Non posso andare contro quello che ho detto e gli hai risposto le nostre due extra. e gli hai risposto le nostre due extra. Quindi io ti dico, per la mezza questo momento all'estate, che questa cosa, ma, chiedo a segretario, che si votasse, che si votasse, se oggi si votasse a paure di una delibera per vedere nella sua scena di finanzi, in questo caso la delibera dei lavori pubblici, si può votare con un po' di tanto, che si impegna. Per i loro due libri è diverso, adesso. E' un altro unico 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 unico, che si è scritto nell'altro, diciamo, di valutazione, di un altro simbolo, diciamo, che mantegge di un po' di tanto. di un po' di tanto. Sì. Quindi, io ho messo le nostre due extra. Non hanno un senso, ma non è 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 un senso. Ascolta, però le poste in Milano sono quelle comunicate dal Ministero, dell'Economia e delle Finanze, che su ogni quattro vis, le variazioni alternate, scritte nell'Italia, solo se il centro, che le scatturirà, sarà effettivamente contorno a quelle che sono le lezioni che l'Initiativa di Milano. Quindi, ai fini del Stato Contatto, e in Milano, la deriva del Stato Contatto, niente del FUNCE e niente del FUNCE e niente del FUNCE del FUNCE quindi ci compriamo il FUNCE per provare. Per quanto non c'è poi la seconda deriva, che riguarda il programma della FUNCE, il programma della FUNCE in CICLE sul FUNCE del 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 FUNCE ma comunque, se il proprio Uppure usate una formula più corretta, se il programma delle opere pubbliche non basta, può chiedere uno supplementamento per essere presentato al FUNCE del FUNCE con tutto ciò che riguarda il FUNCE del FUNCE del FUNCE del FUNCE pubbliche di spaggia al bilancio sia a note che in un genere e si volta primo di questo perché dato la mancata di mancata del programma di RUNCE invece ci ha detto di poter realizzare l'opera quindi dal punto di vista della conferenza questa è l'età non si sa proprio più piante e se ci è pensato che non c'è la funzione del FUNCE è quella di assolutamente il piano fa il gruppo si può staggiare sia del FUNCE che è del programma che è del regionale le vostre alternativa delle altre gruppi che deve essere il programma per tutti una parola l'associato delle valutazioni che ci stanno per la prima non ci stanno parlando grazie 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 ragazzi consigliere consigliere di Siong insieme comunque cortee consigliere insieme e